salve amici di youtube e benvenuti in questo nuovo episodio dove mi è arrivata la webcam finalmente la stavo aspettando e il pacco è questo qua come potete vedere allora vi faccio già vedere subito la webcam vi faccio vedere la differenza tra questa che sto usando adesso quella che metterò la metterò direttamente nel computer vi farò vedere sicuramente voi mi vedrete in alto a sinistra sono andato che siccome prospettiva sembra che io dica a sinistra ma invece dice che a destra ok farò così sarà in alto a sinistra perché prospettiva ragazzi c'è questa parte qui è a destra si trova a sinistra invece a sinistra si trova a destra quindi devo mettere quella originale dove se io faccio così vedete non mi indica l'altra parte ecco quindi vi farò vedere quella della logitech c 270 qua invece quella nuova la metto a destra che lui dice invece che a sinistra vabbè lasciamo aperto al pacco si la devo anche sistemare tutto quindi ragazzi non cioè non sarà perfetta sicuramente quando la metterò sul computer la caricherò sul computer quindi non la devo modificare sicuramente devo settare i comandi come la voglio in hd in hd 720 o 1080p perché fa 1080p ed ecco qua come potete vedere il chroma key mi sta annullando i colori verdi a lato però fregatevele eccola qua la logitech questa è eccola qua logitech logitech c920 e questa è la webcam questa qua vedete si sembra nulla un po il colore verde qua in questo punto qui fregatevele ecco qua ok video chiamati in full hd strabilianti video chiamati in full hd con risoluzione da 1080p a 720p con skype collega la webcam necessitazione ad alta definizione i dettagli che contano in primo piano audio stereo con due microfoni non fermarti agli accessori incorporati webcam hd piccolo eccetera eccetera comunque non vi leggerò come ho fatto con queste cuffie qua che vi ho parlato in tutte le lingue dicendovi le lingue diciamo la stessa cosa in tutte le lingue in poche parole disfrutte di espansione le videocamere si è un full hd niente non ho detto un cazzo ok cosa vi posso dire l'ho pagata 99 euro questa logitech e soltanto aprire la confezione mi rompe altamente ok apriamola da sotto faccio prima ad apriarla da sotto sentirete un casino della madonna ma francamente allora non sto facendo proprio un unboxing cioè cosa vi posso dire di questa logitech è una figata fa video in hd e sicuramente il chroma key migliorerà adesso cioè si muoverò la mano così non vedete questi contorni verdi speriamo se no anche appola c'è una nuova webcam guardate ecco qua perfetto ho tolto la custodia poi adesso apriamo l'altro ecco qui dai vabbè manuale delle istruzioni vabbè eccola qua come potete vedere è un pochettino più grande dell'altra non so se posso farvela vedere comunque vabbè lì c'è un pallino verde è un po' più pesante quindi cioè mi sembra un pochettino più pesante c'è una cosa buona che questa videocamera puoi puoi inchiodarla se vuoi se la puoi proprio mettere attaccata da qualche parte magari se volete inchiodarla magari a qualche superficie che si può inchiodare poi è pesante come ho già detto è un pochettino più pesante di quella perché sicuramente c'ha delle cose nuove quindi adesso vedremo posizionandola al computer ok farò in modo tale che la faccia si veda identica all'altra cioè tenterò di metterla nella stessa posizione dove c'è l'altra così la mia faccia la vedete nello stesso angolazione nella stessa angolazione se non ci riesco però ragazzi non è colpa mia ah speriamo che non ci sia una fregatura ok ah io ho paura che questo coso comunque si allora vediamo che il cavetto sia lungo perché se no sono inculato sangue perché francamente ho bisogno ok stanno litigando tra le due webcam cosa chiamola qui ok sta installando i driver nel mentre ok sta installando i driver appena finisce il driver vedrò come farvi vedere la la webcam allora questa qua deve puntare me però ok no perché ragazzi questa qui è quella che c'ho dritta invece questa qui è un po' spostata verso qua quindi dovrò mettermi così all'incirca sta ancora installando i driver ah prima di tutto facciamo così così potete anche ecco si vedrete questi cosi qua diciamo così aspettate aggiungi eccomo qua riposizioniamola mettiamola qui ok ok qua no aspetta avanti adesso vabbè ho messo il bordo diverso cioè l'ho fatto un pochettino più grande ma fottetevene c'è tanto la posso fare anche così ecco qua poi eccola qua metto il dito per davi la sorpresa ok mettiamola ok porca troglia c'è un casino però in camera mia devo sistemarla un pochettino vedete la fa come se io fossi distante quindi in poche parole mi devo mettere così però siccome forse si può regolare posso zoomarlo posso in teoria logitech vediamo se posso modificarlo con la nuova logitech ok vedete io sto guardando una cosa e poi guarda lì guarda lì guarda lì ok ok questo metti questa qui ok controllo webcam ok zoomiamo ancora un po' perché se no ok perfetto ecco voi vedete una differenza allora la mia faccia questa qua questa qui che vedete nella webcam nuova fa colori un pochettino più accesi cioè più scuri invece questa qua li fa più chiari ma sicuramente perché devo ancora sistemarla se io adesso faccio così acquisizione rapida e gli cambio un po' il sistema dovrei in teoria farlo meglio perché il colore verde perché questo verde non è così come lo vedete voi adesso è un po' diverso postazioni avanzate bilanciamento automatico luminosità ok poi contrasto no ok vabbè credo un verde lo fa un pochettino lo fa un pochettino verde un po' diverso perché questo verde è scuro è come quello che vedete nella nella Logitech C270 invece non è così il verde ma comunque facendo delle prove voglio farvi vedere facendo Logitech chroma key selezioniamo ok già adesso sta migliorando allora cioè se io faccio questo così siamo lì cioè perché allora qui in questo in questa qui il verde me lo sta quasi già togliendo quindi invece qua ci sono ancora i contorni verdi allora facciamo così allora ecco in teoria così dovrebbero venire ancora più puliti i video soprattutto perché non ci sono contorni cioè all'incirca ci sono un po' ma si noteranno di meno eeeh invece con questa i contorni vedete la differenza qua se io faccio così vedete che un po' si vedono di più se io faccio così questo è un po' di meno questa qui nuova però poi se la configuro meglio sicuramente non si vedrà la diversità del cioè già qui mi li toglie guardate cioè tanto che qua devo diminuire un po' questo ok proviamoci di mettere mettiamo 35 poco mettiamo 40 45 ecco 45 già mi ha tolto vedete si nota meno però se io faccio tipo salve amici di youtube non si nota così tanto invece quello di questa qui della G 270 si nota un po' di più però certo dipende se io mi metto così vicino si noterà forse anche di più vedete quindi se invece mi metto un po' distante adesso qua devo modificare anche questa per farvi vedere la differenza allora ok però ok vedete la differenza la differenza è che usando questa qui a parte che devo mettergliene ancora un po' di più quindi devo metterlo vabbè forse così va meglio sì vabbè ci sono ancora bordi perché devo sistemare ancora il telo però comunque se dovessi zoomare e farla in primo piano in teoria questo pezzo qui non si dovrebbe vedere in teoria vabbè la sistemerò io quindi voi mi vedete adesso due volte lo so vi capisco eccomi qua guardate facciamo tutto la faccia anche sono un coglione va bene ecco qua vedete la differenza che anche se sto zoomando troppo questa webcam mi fa vedere sempre questo pezzo invece la la c270 mi fa vedere direttamente il collo quindi sono un po' tagliato cioè come se io fossi così quindi la distanza è importante con questa nuova la faccia mi sembra più pulita qua invece l'altra mi sembra un po' sfoccata abbastanza sfoccata poi se dovessi mettere anche la luce i colori sarebbero sempre più accesi non so facciamo un esempio metto l'iPhone l'iPhone vedete è un po' diverso cambia un po' vedete poi lui mette subito la messa a fuoco che è una cosa abbastanza importante perché se faccio io così vedete mi fa l'effetto fuoco comunque ragazzi volevo soltanto farvi vedere la nuova webcam si questa l'ho settata male questa qui della c270 invece questa qui è la c920 quindi quella lì non indicare gli stessi punti non possiamo fare così ok vabbè quella lì questa qua ok adesso non cambia vabbè indico questa qua è la c920 questa è la c270 si devo togliere questa messa a fuoco perché se no mi rovina il green key perché se no vabbè quindi ragazzi vi ho detto tutto c'ha due microfoni c'ha una vede più distante e ha più qualità quindi va meglio secondo me anzi forse se la metto per fare video a c270 sicuramente grandezza anzi se la metto 1080p l'ha messa a fuoco non devo metterla al massimo però ecco se no ok quindi niente da aggiungere al massimo metto un po' luminosità per farmi vedere meglio ma non troppo ok quindi ragazzi per questo video è tutto ci vediamo in un prossimo video e guardo anche lì in un prossimo video perché c'ho due webcam vicine ci vediamo in un prossimo episodio che sarà sicuramente la dns touchback sempre ragazzi vi prego spammate qui i video fatelo vedere ad tanta gente fate commentare i video dite a tutti quanti di andare nel canale di Gabriele PRG perché voglio dare una mano un casino a Gabriele perché Gabriele è bravissimo a fare i video ragazzi cioè tutto quello che sa di minecraft lui lo sa cioè non non lo so cioè perché non riesce a fare questo successo incredibile cioè manco io a parte che io ho 600 iscritti ma la maggior parte non so perché si iscrivono cioè ragazzi ho avuto non so se due o tre iscrizioni al giorno di persone che si iscrivono ma non ho mai visto i loro commenti quindi non so perché non non si non si risolve questa cosa cioè non so perché nessuno commenta nessuno mette mi piace nei video cioè ho gli stessi commenti di gli stessi commenti che ho sempre e questa cosa mi dispiace perché vorrei avere dei commenti d'altre persone che dicano una loro opinione che esprimano un loro parere perché ragazzi io dico ci sono tanti youtuber famosi che ricevono un casino di commenti di mi piace e questi iscritti li hanno senza problemi invece quando ci siamo noi che siamo piccoli come iscritti la gente guarda il video e dice si vabbè l'ho guardato chi se ne frega non è famoso e quindi eccetera eccetera io non dico che bisogna essere per forza cioè devi per forza commentare però se uno si iscrive al canale ci sono canali che si iscrivono al mio canale ad esempio hanno zero iscritti e non so il perché usano altri account o magari hanno solo quello si iscrivono ma non commentano cioè non mettono mai mi piace io per esempio arrivo dai 2-4 mi piace fino ai 10-12 mi piace e ho 7 commenti quindi sono sempre gli stessi e questa cosa mi dispiace perché vorrei che a meno qualcuno nuovo si mettesse a commentare cioè non dico che dovete scrivere chissà che grandi cose non voglio che vi scrivete beh io sei un mito no non mi interessa cioè non sono un mito non sono un figo non sono un grande youtuber non sono un cazzo io sono un youtuber come tutti quanti ve l'ho sempre detto se qualcuno vi dice cazzate sul mio conto mandatelo a quel paese direttamente perché non mi credo nessuno perché per 200 visualizzazioni che prendo a video non mi mi chia ne prende più youtuber famosi tipo yotobi quei canali lì allora cazzo mi dovevo sentire un grande solo perché ne prendo 200 cioè quindi non mi sembra giusto che io venga preso di punta e venga e vengo trattato in questi modi in senso in generale sto parlando adesso non sto parlando nel senso di argomenti che mi hanno particolarmente non colpito anzi in verità non me ne frega niente soltanto che molta gente crede che io sia una specie di ragazzo che si crede proprio no però vabbè questi sono opinioni di una persona che non ha capito niente quindi cioè io cosa devo dire non posso dirgli nulla cioè non rispondo direttamente cioè quando uno mi dice che mi credo qualcuno che perché 200 visualizzazioni mi credo un grande io non gli rispondo nemmeno perché non ne vale la pena quindi ragazzi cioè se voi commentate mettete mi piace a me farebbe piacere però non mi credo nessuno questo è il punto cioè manco se arrivassi a 1000-2000 iscritti non mi credo nessuno io anzi chiedertelo a quelle persone che commentano che scrivono nei miei commenti sei grande eccetera eccetera diteglielo se io mi credo qualcuno e se per caso ho aiutato qualcuno perché non c'è una persona che vi potrebbe dire tu non hai mai aiutato nessuno non esiste non è possibile che uno venga a dire una cosa leggenda che io non ho mai aiutato nessuno perché ho aiutato sempre tutti io quindi ragazzi niente di importante spero che guarderete i miei video che li condividete su Facebook o su altri social network che mi facciate non perché vi sto chiedendo un favore ma se volete farlo perché non vi sto obbligando quindi se voi volete commentare o volete diciamo spoilerarlo il mio canale o volete dirlo a qualcuno a vostri amici parenti per divertirsi eccetera eccetera mi farebbe piacere quindi ragazzi per questo video è tutto un saluto da BayonKopunit ciao a tutti